Numero 9 del file con modo rettilineo uniformemente accelerato Una macchina si schianta contro un muro alla velocità di 60 km orari L'urto è lo stesso che si avrebbe se la macchina cadesse al suolo da quale altezza? Abbiamo la macchina indicata con il punto A e il muro indicato con il punto B La velocità con cui la macchina si schianta al muro è di 60 km orari che portiamo a un metro al secondo per comodità nelle formule successive Quello che ci chiede il problema è di trovare da quale altezza dovrà essere lasciata cadere la macchina per far sì che essa si schianta al suolo con la velocità di 60 km orari Dobbiamo concentrarci solo su questo disegno senza guardare quello sopra Facciamo il solito sistema con le due formule a cui inseriamo le lettere La velocità sarebbe la velocità B perché è la velocità finale ovvero quella con cui la macchina si va a schiantare al suolo V0 può essere sostituito con VA perché VA è la velocità iniziale che equivale a 0 e quindi viene eliminata sia sopra che sotto Sotto viene eliminata anche da T perché moltiplicata per 0 fa comunque 0 Alla ATB perché il tempo è quello finale ovvero il tempo che inviega la macchina per arrivare dal punto A al punto B Delta S a B perché è lo spazio che la macchina percorre sempre dal punto A al punto B Qui viene elevato come sopra e anche qui viene inserita la B per il tempo finale La A non si tratta di un'accelerazione bensì si tratta di un modo di attrazione che gravita verso il basso Quindi la A può essere indifferentemente sostituita con la G che sarebbe 9,8 m al secondo quadrato Noi lasceremo la A perché è indifferente Cerchiamo di rosso l'incognite che sarebbe Tb sempre Tb e delta S a B che è l'incognita che dovremo andare a trovare alla fine per la soluzione del problema Posso ricavarmi il tempo dalla prima equazione con una formula inversa ovvero Tb uguale Vb fratto A Vado a sostituire i numeri a questa formula e il tempo che la macchina impiegherà a scendarsi al suolo dal punto A al punto B è di 1,7 secondi Vado a sostituire questo tempo a delta S a B e verrà fuori che delta S a B è uguale a 14,2 metri ovvero la altezza a cui dovrà essere lasciata la macchina per far sì che si schiandri al suolo con la velocità di 60 km orari sarà di 14,2 metri